Se non sai perdonare, non sei cristiano, non segui quello che ha fatto Gesù, il Principe della Pace, che porta la pace nei nostri cuori. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa celebrata questa mattina a Casa Santa Marta. Prendendo spunto dalla liturgia di questi giorni, che parla dell'opera di Gesù di pacificare e riconciliare, il Pontefice ha condannato quanti producono armi per uccidere nelle guerre, ma ha anche messo in guardia dai conflitti all'interno delle comunità cristiane. Ed ha di nuovo chiesto ai sacerdoti di essere misericordiosi nel confessionale, perché chi non lo è fa tanto male. Se tu non sai perdonare, tu non sei cristiano. Sarai un buon uomo, una buona donna, perché non fai quello che ha fatto il Signore. Ma pure se tu non perdoni, tu non puoi ricevere la pace del Signore e il perdono del Signore. E ogni giorno, quando preghiamo il Padre nostro, perdonaci come noi perdoniamo. È un condizionale. E cercamo di convincere Dio di essere buono come noi siamo buoni perdonando, al rovescio. Ma, e poi, ma, parole, no? Come si cantava quella bella canzone, parole, 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 no? Credo che Mina le cantavano. E parole. Perdonatevi. Come il Signore vi ha perdonato, così fate voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.